ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui con voi per mostrarvi la terza e ultima parte della serie di video che ho registrato in questo periodo no green pass no gym no problem in questo terzo ed ultimo video vi mostrerò degli esercizi a corpo libero per allenare il petto questi esercizi potete eseguire tranquillamente nel salotto di casa vostra in dall'aperto ovunque lo vogliate perfetto seguitemi adesso vi mostrerò degli esercizi che sono alla portata quasi di tutti perché alcuni sono dei classici esercizi che voi venite seguire alcuni sono un po più complicati quindi vi sfido a farli ok adesso vi mostro gli esercizi semplicemente dalla loro esecuzione senza sale a descrivere guardate atteggiamenti come li eseguo ho mostrato alcuni degli esercizi più famosi per allenare il petto so che all'inizio potranno risultarvi molto difficili perché comunque andiamo a lavorare con il nostro peso corporeo però piano piano potete riuscire anche voi adesso invece vi mostrerò un piccolo circuito per allenare il petto state a vedere grazie a tutti grazie a tutti con questo terzo e ultimo video si conclude la serie di video che ho voluto dedicarvi no green pass no gym no problem in questi tre video ho voluto mostrarvi degli esercizi che potete seguire comodamente a casa vostra dal primo a quest'ultimo video siete diventati tantissimi video sono stati super apprezzati e io ve ne sono grato per questo se volete continuare a supportare il canale facilissimo basta mettere un like lasciare un commento e iscriversi grazie di tutto e continuate a seguirmi ciao belli